Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale, bentornati alla consueta titolata settimanale Content dove vado ad analizzare i titoli che voi mi chiedete nei commenti Prima di iniziare ricordo gli obiettivi della titolata Primo tra tutti andare a scoprire nuovi titoli grazie un po' alla sinergia che si crea nella community Permettere poi dopo a chi mi chiede il titolo di avere un secondo punto di vista E poi perché no trovare anche delle belle occasioni all'interno dei titoli analizzati Detto ciò partiamo subito e vi invito come sempre a lasciare un bel like support, campanellini, iscrizione, bim bum bam E eccoci qua, andiamo a vedere subito i titoli che andiamo ad analizzare nella giornata di oggi Li vedete qua in alto sulla destra, comunque li avete anche visti nella copertina Quindi sapete già a cosa si va incontro E partiamo subito con Nvidia Nvidia che è il titolo che nell'ultimo anno, nel 2024, è proprio il titolo di punta dei mercati Perché ha avuto questa crescita incredibile, questa crescita esponenziale Dovuta sì a risultati aziendali importanti A risultati importanti Capitalizzazione ci siamo alla grande Se andiamo a vedere il bilancio anno su anno, scusate Vediamo il 2023 come mostra dei risultati incredibili Trimestralmente proprio si vede la crescita E quindi questi sono tutti i dati da prendere assolutamente in considerazione Cosa mi viene da dire però di tutta questa situazione di Nvidia? Che l'unico dato che a me piace poco è questo rapporto PE L'abbiamo già detto più volte L'azienda sta facendo benissimo Il problema è che un rapporto PE così alto sugli 80 rischia di essere una scommessa Perché se Nvidia un po' delude Va sotto le aspettative Inizia a fare solo una trimestrale Facciamo finta che La prossima trimestrale che esce in data 22 maggio Viene fuori un risultato scadente E qua il titolo potrebbe scendere con una certa forza E di conseguenza Secondo me comprare adesso è alto E come dicevo a marzo quando l'abbiamo rianalizzato Che era già in area 900 Comprare a 900 faccio sempre in tempo Quindi secondo me non presento un'occasione al momento Dove secondo me si può cercare un ingresso su Nvidia Per fare un ingresso interessante Su un titolo che effettivamente sta facendo molto bene Allora secondo me la cosa da fare è cercare di costruire un'operazione Dove l'ultimo ingresso deve essere l'area dei 500 Quindi secondo me un'operazione Costruita su prezzi psicologici Quindi senza stare a fare troppo analisi tecniche Perché diventa abbastanza complicato Dove si cerca di fare un primo ingresso in area 700 più o meno Quindi vado a fare un ingresso in area 700 Un ingresso in area 600 E poi un ingresso in area 500 Secondo me su Nvidia questo potrebbe essere una buona struttura Ora voi mi direte Silvio è ambizioso perché in area 700 Miau che ci arriva Non è detto Potrebbe fare una correzione importante Una correzione un po' ambiziosa E arrivare a prendere il nostro ordine Almeno quello che metterò io in area 700 700 vi dico anche di più 700 farò un ingresso veramente veramente morbido Inizierò a spingere un po' col capitale Da 600 a 500 E poi perché no Un ultimo ingresso qui in area 400 Secondo me questa è l'operazione Che può dare il miglior rapporto Rischio-rendimento su Nvidia Perché ripeto Andarlo a prendere in area 8,80 Dove sta adesso 8,40 È troppo Troppo alto Cioè faccio Magari posso prenderlo anche tra sei mesi In questa zona qui Quindi la mia idea è 4 entrate Costruite in questo modo Qui molto morbido sul capitale Sul primo ingresso E poi dopo Inizio a dare un pochino più forte E inizio a mettere Magari Una Buona fetta di capitale Importante qui Se arrivi in area 500 O 400 Se non ci dovesse arrivare Avrò perso un'operazione Voglio dire Poco male E se dovesse salire Mi riposizionerò magari In questa zona Vista Nvidia E vista la mia analisi Che ripeto Si focalizza solo ed esclusivamente Sperate che mi metto di qua Che magari è più comodo Che si Ripeto Azienda che sta facendo bene Ma Il PE è troppo alto Di conseguenza Preferisco stare un po' più tranquillo Andiamo avanti E andiamo a vedere Lennar Corporation Ecco qua Costruzione e commercializzazione di case Questa azienda lavora Principalmente Esclusivamente Scusate Esclusivamente negli Stati Uniti Almeno questo è quello che ho Che ho capito Prima cosa che sono andato a vedere Un'azienda che costruisce E commercializza case Voglio vedere se si è ripresa Dalla crisi del 2008 Che aveva colpito forte Il settore immobiliare americano Poi quello bancario Via dicendo Vediamo che nel 2008 Si è ripresa molto bene Questo secondo me È un segnale Già di un'azienda Che comunque Lavora abbastanza bene Perché Un'azienda nel settore immobiliare Ripresa bene Dalla crisi del 2008 Cosa si rischiava? Perché sono andato a vedere? Perché si rischiava Magari che nel 2008 Stava a 2,40 Io guardo qui dal 2016 E mi sembra che stia crescendo Invece sta effettivamente Crescendo in lungo termine E siamo quasi sui massimi Andiamo a studiarla Un po' meglio Da un punto di vista finanziario Capitalizzazione Ci siamo Rapporto PE E come da anche I dividendi Quindi anche questo È un ottimo Un ottimo dato Vado a vedere Nella situazione report Subito come sta andando 2023 Leggermente inferiore Al 2022 Non è Una situazione Anzi Voglio vederla un pochino meglio Fatturato Siamo sui record Ma se vado a vedere L'utile E quindi tolgo tutto L'utile netto Siamo a livelli del 2020 Non un segnale Troppo interessante Q1,24 Ha leggermente battuto Q1,23 Secondo me Guardando Adesso solo a parte utili Poi guardiamo magari qualcos'altro Mi sembra in questo momento Un titolo che può correggere Magari un altro po' Insomma È sui massimi E comunque L'ultimo anno Non è che Ha proprio fatto Faville Per essere sui massimi Quindi secondo me Comprare adesso È un pochino rischioso È un titolo Interessante L'ultima trimestrale Vediamo sempre Che il Q1 è un po' magro Il Q1 è un po' magro Solitamente va forte Q3,Q4 No? Quindi bisognerà vedere Magari verso la fine dell'anno Quindi non mi aspetto Degli impulsi rialzisti Soprattutto anche nel prossimo trimestre Quindi in questo momento Vedo un titolo Aspettate che rimettiamo Il grafico giornaliero Vedo un titolo Vedo un titolo che può continuare Ad avere questa lateralità E perché no Magari una lateralità Che arriva in questa zona E poi dopo Si può valutare Che tipo di ingressi fare Secondo me Un ingresso interessante Su questo titolo Un primo ingresso interessante In ottica Guardando gli utili Che ripeto Non stanno salendo Potrebbe essere Un primo ingresso Quest'area qui L'area dei 130 Che è una correzione Che potrebbe effettivamente avvenire Secondo ingresso interessante L'area dei 117 Mi sembra 115 Dai Numero pari Cioè numero Vabbè L'ho detto E poi dopo Andiamo nell'area dei 100 Che come prezzo psicologico Va più che bene Quindi secondo me Questa è un'operazione Che si può fare sul titolo Un'operazione che però Io onestamente Non farò Perché Vorrei vedere Degli utili E dei E dei fatturati crescenti Cosa che non si vede Quindi Magari aspetto I dati del Q3 Guardo come va Il Q3 Se durante il Q3 Escono dei dati positivi Che battono il Q3 2023 Quindi Q324 Batte Q323 Allora valuterò Di fare un'operazione Se sono in questa zona Stop loss Sotto i 100 Prezzo psicologico Importantissimo Prossimo titolo Campari Che sono riuscito A entrare a mercato Qualche giorno fa Proprio Sul supportino Che avevamo evidenziato In Qualche titolata passata Qui in area 8 e 8 Campari Ingresso Stop loss In area 8 e 5 Questa qui è veramente Secondo me Un'operazione Interessante Su Campari In questo momento Si può valutare Di mettere lo stop In pari Chi L'ha acquistata Solo a fine speculativo Quindi per sfruttare Il Il rimbalzo Sul supporto Target Per chi l'ha comprata A fine speculativo I 10 Euro E però si mette Lo stop loss In questa zona Così se dovesse scendere Poco male Si esce dalla posizione Non si perde niente Quindi questa è un'operazione Che si può fare Io però Guardando questo dato Che mi sembra Veramente importante Guardate Panoramica Capitalizzazione Ci siamo Rapporto Più è un pelino alto Ma Lo accetto Su Campari Perché lo accetto Su Campari Perché vi voglio far vedere Come Campari Sta In questo momento Andando Ad aumentare Anno su anno Le proprie quote Di mercato Quindi non è Solamente Italia Ma vedete Come anche Nelle Americhe In Germania In Francia Insomma In altri paesi Inizia Si sta allargando È una DNA Che si sta Che sta crescendo Quindi Secondo me Magari Ti ha fatto l'operazione Qui Una Target 10 Fine speculativo Va più che bene Tenere Una piccola parte Per il lungo termine Di Campari Perché potrebbe Potenzialmente Secondo me Guardando i risultati Arrivare anche in zona 13 O tornare in area 13,5 Insomma è un titolo Che potrebbe farlo Ultima cosa Che faccio vedere Su Campari Che è il motivo Della discesa È stato L'ultimo semestre Che è stato Un pochino deludente Anno su anno Andando a vedere Vedere proprio L'utile Netto Vi faccio vedere Che non c'è stata Effettivamente Una crescita 2022 2023 E questo ha portato A questa Importante discesa Che potrebbe Qui con questo Doppio minimo Aver toccato Il fondo Quindi io Non è un'operazione Che farò solo A fine speculativo Probabilmente Metà dell'operazione La chiudo a 10 Ma l'altra metà Me la tengo Nel portafoglio Di lungo termine Prossimo titolo Che vado a vedere Mapfree Mapfree Non so bene Come si pronuncia Si occupa di Assicurazioni In questo momento Sembra sui massimi Ma non lo è Vi faccio notare Come ha avuto invece Un tracollo Particolarmente Importante E la situazione Tecnica Non è delle più Semplici Per i rialzisti Perché qua In area 2.4 C'è una bella Resistenza E sembra Avere reagito Il titolo Sulla resistenza Andiamo a vedere Adesso Un po' Conoscere meglio L'azienda Da un punto di vista Finanziario La capitalizzazione Sotto i 10 billion Ma siamo a 7 Va quasi bene Alto rendimento Da dividendo Questo è un elemento Abbastanza Importante Rendimento alto Un dividendo alto Scusate 5.38 E report Vi faccio vedere Una cosa interessante Che avevo notato Sul report Ecco qua Dove siamo Quell'utile netto Me lo dà in viola E voglio farvi vedere L'utile netto Ecco qua Vediamo che un'azienda Che a livello di utile netto È sempre rimasta Più o meno lì Dal 2017 Al 2023 Siamo più o meno lì Allora Uno si chiede 2017-23 Perché non è I livelli del 2017 Perché è un'azienda Che non cresce Dopo un po' L'investitore si stufa E la vende In questo momento Su questa resistenza Io non comprerei Il titolo Per la capitalizzazione Bassa Perché a livello Anche di crescita Non c'è Un'effettiva crescita Non c'è Cresce un po' Il fatturato Il fatturato Ma l'utile netto Rimane lì Quindi siamo in quella Situazione in cui Si fatturi di più Ma quello che porti a casa Il margine Non è tanto di più Può essere un titolo Da cassettista Con un dividendo del genere Si Ma secondo me Diventa un titolo interessante Da comprare In zona 2 E in questa zona Secondo me È abbastanza altino Quindi io non andrei A prendermi questo rischio Cosa interessante Di questo titolo È Una particolarità Ve lo faccio vedere È la È la sua area di competenza Che sta aumentando Le sue quote di mercato Soprattutto nel 2023 Vedete come I paesi In cui principalmente Lavora Li vedete qua Sulla destra Dovreste vederli Esatto Spagna Brasile Stati Uniti Messico Perun insomma Molto Sud America Molto Sud America Spagna A livello globale Comunque è un'azienda Che Non è solo Solo spagnola O solo Concentrata Su pochi paesi Ma è un'azienda Abbastanza globale Questo è un elemento Da prendere in considerazione Che sicuramente Da forza Però io In questo momento Non sono interessato A questo titolo Però un cassettista Potrebbe avere Un certo interesse A comprarla Secondo me In area 2 Magari Triplo ingresso Area 2 1,7 E poi dopo Si può valutare Un ultimo ingresso In area 1,5 Quindi Svegno i livelli Giusto per essere Il più chiaro possibile Ecco qua Questo qui è il secondo livello E questo qui è il terzo livello In cui si può comprare Un titolo che non fa utile Non fa fatturati crescenti Ma rimane più o meno sempre lì Comprarlo nella zona Un pochino più bassa In ottica di Prendere i dividendi Tenerlo lì È anche un investimento Che può avere un certo senso Ripeto Perché Chiaramente Se migliora anno su anno È molto meglio Se non migliora Fa lo stesso Comunque dai dividendi E noi Stiamo in quest'area laterale Questa è un po' La soluzione In questo momento Non sono interessato Al titolo Però personalmente Prossimo titolo invece Questo mi interessa Abbastanza È Airbnb Airbnb Stiamo parlando Di una piattaforma online Che permette Di Permette Gli affitti brevi Io ho questi punti Di ingresso Che non mi sono stati colpiti L'ultima trimestrale Di Airbnb Vi faccio vedere subito Ecco qua Vi faccio vedere subito L'ultima trimestrale Di Airbnb Capitalizzazione 102 bilion Rapporto P e 22 Quindi come rapporto P e ci siamo Ultima trimestrale A parte questo Q3 2023 È stato una mina Proprio per Airbnb Però il Q4 2023 Deludente Scusatemi Deludente Di conseguenza Voglio vedere Il Q1 2024 Come andrà Che i dati escono A brevissimo A brevissimo Proprio all'8 maggio Quindi voglio vedere Un po' come va Questa La trimestrale E Se la trimestrale Dovesse essere positiva Valuterò Un posizionamento Long In questa zona Se la trimestrale Dovesse essere negativa Quindi un altro trimestre Negativo Allora Terrò questa struttura Che ho già Preparato Quindi Sarà la trimestrale A decidere un po' Il futuro Della mia operazione Ripeto Se Trimestrale Positiva Quindi risultati buoni Allora Io vado a creare Una struttura qua sopra Che vi faccio vedere adesso Se invece La trimestrale è negativa Tengo questa Quale sarà la mia Struttura In caso di trimestrale Positiva Questo diventa Il mio primo ingresso 155 Ecco qua Ve lo segno in verde Giusto perché così Riusciamo a vedere La differenza Tra le due operazioni Ecco qua Quindi La mia operazione Sarà la seguente Quindi dividerò Il capitale Sempre in 4 Però In questo caso La mia operazione È questa qui Ecco qua Quindi questo è lo stesso Punto di ingresso Solo che nel caso Di trimestrale negativa Diventa il primo Nel caso di trimestrale Negativa diventa l'ultimo Questa è la mia posizione Lo stop loss in quel caso Lo metterei sotto area 120 Quindi questa è la mia analisi Su Su Airbnb Vedremo come andranno I prossimi risultati Che comunque L'ultima cosa che faccio vedere Anno su anno Siamo in crescita Ed è proprio per questo Che voglio Entrare Su questo titolo Ma cercare comunque Il momento migliore In ottica Long term Poi Diamo avanti Il prossimo titolo Che mi avete chiesto Snum Snum Titolo su cui Ho fatto un'operazione La sto per chiudere Devo valutare Nei prossimi giorni Magari Perché è un po' Che l'ho aperta L'ho aperta circa I primi di febbraio Sta andando sempre Un po' su Un po' giù Un po' su Un po' giù Azienda che si occupa Come leggete Di trasporto di gas La situazione sul gas Non è delle Piurose A livello di Scorte L'Europa Ne ha tanto In questo momento Di gas Cioè tanto Siamo al 60% Come Come fornitura Cioè nel senso Abbiamo i magazzini Pieni al 60% Potrebbe Avere magari Una spinta Verso l'alto Però non è più Un titolo Che mi interessa Come qualche Settimana fa Come qualche settimana fa In questo momento La posizione Il livello di utili E fatturati Facciamo vedere Anche H22023 E' andata abbastanza Abbastanza bene Ricordo che significa Semestre E' andata abbastanza bene Anno su anno Siamo più o meno Sempre lì In questo momento Secondo me Questa è l'unica operazione Fattibile Sul titolo Tengo per Un paio di settimane Ancora Perché c'è un secondo ingresso Che non ho utilizzato Ma probabilmente Mi muoverò In questo modo Guardate Non faccio neanche Il secondo ingresso Perché Non sono convintissimo Dell'operazione Se dovesse arrivare In area 4.6 Chiudo Se vai in area 3.8 Invece Rimango a mercato Questa è attualmente La mia La mia idea Su questo titolo Chiaramente Titolo Influenzato Dal Dal mercato Eccoci qua invece Meta Meta che ho un ordine In area 400 Sono pronto Ho una parte di meta Per il lungo termine Cioè nel mio portafoglio Lungo termine Meta C'è Ricordo Comprata All'inizio Proprio del 2023 Abbiamo fatto Un'operazione Circa in questa zona L'ho comprata In area 125 120 L'ho tenuta Per il lungo termine Avevo anche una parte Speculativa Chiaramente Dopo quella rivenduta In questo momento Però Il lungo termine Non lo tocco Perché Questo ho aperto il discorso Perché Il ritracciamento Quando uno dice Magari vendo No no Il lungo termine Io non lo tocco Su però Il breve Medio termine Cerco di fare Qualche operazione E qui L'area dei 400 Diventa particolarmente Interessante Quando l'ho segnalata Circa un mesetto fa Sembrava lontanissima Invece Guardate Ora Ci siamo vicini Vedremo Se arriveremo In area 400 Operazione 480 360 Per come sta scendendo Abbastanza aggressiva La riposiziono In questo modo Guardate 4 360 3 20 E poi Ultimo ingresso Potrei fare qui Guardate Su questo supportino Anzi lo faccio Perché Mi sembra una cosa intelligente L'area dei 2 80 Meta che comunque Ripeto È scesa Solo per un discorso Di previsioni Di crescita Non per crescita reale Perché guardate L'ultima trimestrale È stata veramente importante E ha battuto E ha battuto il Q1 2023 Quindi Anche meta Molto molto bene Ultimo titolo Che andiamo a vedere Semmler Scientific Si occupa di Fornitura medica In particolare C'è un prodotto Di punta Per gli esami Del sangue Una cosa del genere Adesso Non riesco a entrare Troppo nel dettaglio Perché non sono troppo esperto E comunque Per malattie croniche Si occupa di malattie croniche Ed è una fornitura medica Quindi fornisce le tecnologie I prodotti Per Permettere ai medici Di fare queste analisi Detto ciò Titolo che Dal 2021 Che era Andato Guardate qua Bolla Importante Questo sicuramente Si vede proprio Che è una bolla Per la crescita forte Che ha fatto Crollo importante E siamo tornati In questa zona Signori Questa zona qui Che è la zona Fuori dalla bolla Possiamo chiamarla così? No? Quindi una zona Più o meno standard Area In questo caso Attenzione Area dei venti Diventa una zona Abbastanza interessante Adesso vi faccio vedere perché Perché me la sono un attimo Studiata prima Da un punto di vista Del Dei movimenti Perché Guardate come si sta muovendo Sta effettivamente crescendo Ma Perché ci sono movimenti Così aggressivi? Perché la capitalizzazione Del titolo è inesistente È inesistente Allora Ci sono 92 dipendenti Cioè ci sono più dipendenti Nel bar sotto a casa mia Quindi Questo È un elemento Che Rischia di Il personale Da 127 A 92 Allora Anche questo È un dato Che potrebbe Entrare Da prendere in considerazione Secondo me Da prendere in considerazione Un'azienda molto molto piccola Di conseguente Cosa vuol dire Oscillazioni molto molto forti Questo significa Allora Adesso sto facendo Un crollo importante Perché l'ultima trimestrale È stata deludente E voglio andare a vedere Se riesco a A vederla Non so Scusate un secondo Sì È stata deludente In realtà Sulla previsione Degli utili Però Lo stesso L'azienda Stavo guardando Infatti È comunque Andata abbastanza bene E il Q4 22 È stato inferiore Al Q4 23 Confermo Confermo Secondo me Un titolo Così a bassa Capitalizzazione Come sapete Non mi piace Tradarli Non mi piace Averli in portafoglio Perché il rischio È veramente alto Vedendo la quantità Di dipendenti Che ci sono Lo ritengo Comunque Un rischio Andare a operare Su questo titolo Però Un'operazione Pochissimo capitale Ma una briciola Del capitale Una briciola Strutturata In questo modo Con sto plus Qui sotto Secondo me Ci potrebbe stare Per chi ama Chi è interessato Alle aziende A bassa capitalizzazione Che vuole cercare Qualche operazione Interessante Questa a mio parere Potrebbe essere Un'operazione Con del potenziale Di conseguenza È un'operazione Che io farò Veramente Ci metto Poco 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 A livello Percentuale Il portafoglio 0.2% Del portafoglio Entrata 0.3% Insomma Se prendo lo stop Non voglio perdere Più di un 0.2% Del portafoglio 0.3% Però Se effettivamente Un'operazione Dovesse andare bene Potrei Potrei effettivamente Fare bene Magari anche Rivendrinare 50 Raddoppio Quel poco Che ci metto Lo raddoppio Quindi secondo me È un'operazione Che potrebbe avere Un certo senso In questo modo Ripeto Io non sono molto Non sono molto a favore Delle aziende a basse capitalizzazione Perché Il rischio è alto In tutti i casi Questa azienda È carina Devo dire Che è carina Per i risultati Che sta facendo E forse Il momento È quello buono Detto ciò Per quanto riguarda La titolata di oggi È effettivamente tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Come sempre Un bel like Di supporto E noi ci vediamo Per i prossimi video Sempre qui sul canale E noi ci vediamo